Scontro mortale lungo la statale 73 tra un'auto e un camion. Ci troviamo a poche centinaia di metri dall'abitato di Palazzo del Pero, una frazione del comune di Arezzo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.30 alla guida dell'auto, una Renault Talisman, una donna di 49 anni ed il figlio di 14, di origini straniere ma residente a Perugia. Il camionista, anche lui di origini straniere, nell'intento di evitare l'impatto, è finito fuori strada. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica, i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia locale. La donna è morta sul colpo, il figlio è stato invece trasferito con l'elisoccorso Pegaso, atterrato lungo la statale, all'ospedale Meyer ha riportato un trauma addominale. Lievi ferite per il camionista in stato di shock che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, il traffico ha subito pesanti ripercussioni ed è stato deviato all'altezza dello svincolo che porta allo stadio comunale di Arezzo.